Benvenuti al GCN Italia Show, puntata 250, numero importante, e siamo qui con Diego Bragato, Maranghe ancora in viaggio di nozze, e oggi parleremo di preparazione di quello che ha fatto la nazionale, soprattutto negli ultimi dieci anni. Via con la puntata. Lead Story. Vedi come mettere proprio agio gli ospiti. Allora, Diego Bragato, classe 86, arrivato alla categoria Under 23, l'arrivato poi in scienze motori, è attualmente capo del settore performance Italia, coordinatore, diciamo, quello che gestisce un po' la preparazione dei ragazzi del coro nazionale in tutte le discipline, quindi dalla BMX alla pista alla strada, insomma. Esatto, coordino lo staff che gestisce la parte atletica e non solo di tutte le squadre nazionali. Io sono andato a spulciare un po' di dati, insieme anche a Diego, mi ricordavo che il quartetto, all'epoca in cui correvo io, quindi ho finito nel 2014, quindi stiamo parlando dell'epoca 2010-2011, per fare 4 chilometri impiegava 4 minuti e 15, a volte anche più di 4,20, e attualmente invece siamo i detentori del record del mondo con 3,42, 0,32. Esatto, ormai già Filippo ganna da solo e ci mette meno. Appunto. E quello che voglio capire inizialmente è come siete riusciti in 10 anni o poco più a diventare da un quartetto che faceva fatica a qualificarsi a un quartetto che ha vinto le Olimpiadi e ha il record del mondo attualmente. Cioè, cosa è successo? Quali sono i fattori che hanno permesso questa crescita? No, guarda, è stato un percorso molto bello, perché comunque spesso quei ragazzi ci ricordiamo quando in quegli anni festeggiavamo se entravamo nei primi otto in Europa, per noi era già un grandissimo successo. Quindi trovarsi ad oggi a essere i migliori al mondo, o tra i migliori continuativamente, perché non abbiamo solo vinto e fatto il record, ma è un po' di anni che siamo lì a giocarci le finali, vuol dire che il percorso è stato solito e qualcosa di importante abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo programmato, perché di fatto i ragazzi forti li avevamo, ci sono stati, ma abbiamo iniziato a mettere in ordine quello che bisognava fare da un punto di partenza a un obiettivo. Le cause possono essere ovviamente il materiale umano, Viviani e Ganna, hanno sicuramente contribuito ad alzare il livello. L'inaugurazione di Montichiari è 2009, fino a quel momento non avevamo un velodromo al coperto, però anche la vostra metodologia di lavoro e il vostro staff. Spiegaci un po' come lavorate, chi siete, cosa fate. Hai toccato dei punti importanti, perché sicuramente i ragazzi, il materiale umano su cui lavorare è fondamentale, ci deve essere. Dopodiché poter avere un centro come Montichiari a nostra disposizione per lavorare, che ha dato il là a tutta una serie di successi e di lavori che ci ha permesso di arrivare a questo punto. Poi è stato bravo Marco Villa, che da neocommissario tecnico, proprio nel 2011, mi ha coinvolto e coinvolgendo me si è aperto a tutta una nuova mentalità di lavoro che passo passo ci ha permesso di creare un metodo, perché di fatto abbiamo istituito un metodo di lavoro che abbiamo negli anni solidificato e duplicato anche con le varie categorie per far sì che ci porti a dei risultati, ma che questi risultati siano ripetibili. Spiegaci un pochino cos'è che avete cambiato. Mario, la cosa più difficile che hai trovato nel modificare quello che si è sempre fatto è la cosa che vi ha portato magari più vantaggi nel breve termine e nel lungo termine. Ma guarda, allora, la cosa più difficile è stata quella di far capire alle società con cui lavoravamo il fatto di dover inserire dei lavori con continuità, dei lavori specifici, che in pista si potevano fare molto bene oppure si dovevano fare solo in pista, e di inserire nel programma in maniera continuativa durante tutto l'anno, per poi andare a dei blocchi specifici prima degli eventi importanti, e tenere sul pezzo gli atleti e le società per anni e accumulare i volumi di lavoro per anni da dove eravamo agli obiettivi fondamentali è stata la cosa più difficile. Ma su quello il GT è stato molto bravo a tenere sul pezzo società e atleti e noi a programmare questo accumularsi di volumi negli anni. Anche perché immagino adesso la collaborazione con le squadre, con i risultati che avete raggiunto, quei talenti che ci sono, magari, dico, un po' più semplici. Perché inizialmente, quando facevate 4.15, c'era scetticismo su persone nuove appena arrivate, che chiedono i ragazzi ai club per allenamento e tutto quanto, era ancora più difficile. Sì, all'inizio c'era un forte credo dei ragazzi, e lì a Viviani in primis è attualmente ancora riconosciuto il leader del gruppo perché è stato il primo a crederci nel progetto. E anche a livello personale, perché in quell'epoca in cui ancora dovevamo dimostrare tutto, lui si è fidato di me personalmente e del mio staff già dal 2012 a lavorare per le Olimpiadi di Londra e da lì in poi a rinnovare il lavoro in ottica di Rio 2016, che è stata la sua Olimpiade dove ha mostrato tutto. Quindi la fiducia che gli ha dato in noi ci ha rinforzato nel metodo di lavoro, ha rinforzato il gruppo e ha fatto vedere che l'Italia poteva creare una filiera di risultati che ha portato a quello che siamo oggi. Sì, perché ok, questa diminuzione di 33 secondi in 10 anni nel quartetto, poi ovviamente bisognerebbe andare a prendere anche il tempo individuale, il quartetto è anche lì sceso tantissimo, Ganna è l'interno anche lì del record del mondo, in parte può essere prodotto anche il materiale, ovviamente in 10 anni c'è stato uno sviluppo, però quelli non sono bastati perché quelli a fine migliorano in tutte le nazioni, bene o male, i materiali, qui c'è tanto lavoro dietro. E quindi ti chiedo, quali sono i lavori specifici, cioè che secondo te hanno cambiato un po' il motore di questi ragazzi, gli hanno dato un esempio di qualcosa che prima non facevano, o mai è iniziato a fare con questo nuovo gruppo di lavoro? Ma principalmente i lavori di forza, e non i lavori di forza fino a se stessi, ma accumulandoli negli anni, avendo una visione noi adesso programmiamo almeno a 4 anni, quindi sappiamo da oggi ai prossimi 3-4 anni come andiamo a progredire con i carichi sia a secco che in bicicletta, perché in pista ad oggi è richiesto spingere alcuni rapporti, ma alcune espressioni di forza molto molto complesse. Ti faccio un esempio, la Mone è quello che lancia il quartetto e in meno di 250 metri deve essere già sopra i 60 all'ora, con rapporti che vanno ben oltre il 60-62-14. E poi non deve ritirarsi, ma deve continuare a fare un'altra tirata generalmente. Partire da ferme con quei rapporti, essere sopra i 60 all'ora ai meno di 250 metri, e poi tenere le tirate di Ganna e Milan non è facile. No, esattamente. Quindi le espressioni di forza che sono richieste in palestra, quindi tanto lavoro in palestra, e in bici sono fondamentali, quindi dalle partenze alle progressioni di forza, sono tutte cose che ci mettiamo dentro in maniera molto molto importanti, con rapporti che su strada non esistono. No, e voi preferite lavorare a velocità gara per magari chilometraggi ridotti o arrivare a fare i 4 km a magari un'intensità più bassa e poi man mano alzarlo? Cioè preferisci spingere sul ritmo gara? Hai toccato un punto che è stato uno dei punti salienti per cambiare anche la prospettiva, perché quando io ho iniziato si erano abituati a lavorare a ritmo gara o sotto ritmo gara ma per ritmi più lunghi. Sì, ci siamo impuntati e abbiamo iniziato a fare dei lavori su tempi o distanze più corti del ritmo gara ma ben oltre l'intensità gara. Per abituare il fisico ad esempio a fare i 1000, 1500, 2000 metri da fermo molto più forti di come li faresti in gara, con volumi sommandoli più lunghi della gara. Questo per abituare il fisico ad andare a certi livelli e questo ha alzato molto l'asticella. Quindi adesso continuiamo, visto che comunque lavoriamo con atleti che hanno un background di strada, quindi la parte estensiva ce l'hanno, tendiamo in pista di richiamare soprattutto le alte intensità su periodi molto più brevi. Quindi anche adesso, nonostante i 3,42, fate dei 1000, dei 1500 a velocità che porterebbero teoricamente a tempi ancora più bassi. Sì. Cioè fate un 1500 che si è protratto fino alla fine e fate il 3,3,30. Sì, anche dei 1000 lanciati. Non chiedo che velocità vanno. A volte i ragazzi si sfidano anche sui 1000 lanciati a quartetto e ci sono delle velocità che sono impressionanti. E come vedi il futuro di questo quartetto? Alla fine abbiamo un Milan che è giovanissimo ed è fortissimo e sta migliorando anno dopo anno, però un Viviani che comunque ha la mia età un anno meno e quindi diciamo che il meglio forse l'ha già dato. Ci sono nuove entrate, nuove persone che possono prendere questi posti? Avete buone prospettive, diciamo, all'Orizzonte con un gruppo giovane? Ma guarda, in realtà sì, perché ormai sono un paio d'anni che ai campionati europei Union e Under e anche ai mondiali praticamente vinciamo tutto, sia con gli uomini che con le donne. Quindi sia dal punto di vista maschile che femminile, Union e Under 23 abbiamo un gruppo di ragazzi molto molto forti. Tra l'altro con gli uomini e i junior abbiamo fatto un record del mondo molto importante e quindi il bivaio c'è, i giovani ci sono. E state puntando anche altri obiettivi? Su pista, altre discipline, su tipo la velocità, che è sempre stato un qualcosa che dopo Chiappa non è più stata presa, a meno a livello maschile. C'è Miriam 10 che è già da un po' di anni che è lì, ma anche a livello maschile vedo che sta arrivando qualcosa. Sì, anche lì, proprio negli ultimi anni, a livello giovanile abbiamo avuto dei bellissimi segnali. Agli europei Union e Under 23 siamo tornati a vincere sia con l'individualità che con le proprie squadre. Stiamo tornando anche a livello assoluto, perché dei ragazzi come Bianchi e Predomo stanno ottenendo, prima di tutto Bianchi, poi adesso anche il giovane Predomo, dei risultati a livello internazionale, anche con gli elite. E questo fa sì che ci siano belle speranze di ritornare a altri livelli anche con la velocità. Il talento c'è, dobbiamo dare solo continuità a questi ragazzi e permettergli di crescere, perché i numeri ce li hanno. A proposito di talento, come individuate i ragazzi che poi entrano a far parte della vostra squadra, che seguirete poi più da vicino? Guarda, andiamo parlando dei velocisti. È stato anche un frutto di un ruolo nuovo che mi è stato dato, cioè quello di responsabile performance di tutte le discipline. Questo mi ha permesso di conoscere il valore umano di tutto un ventaglio di atleti che prima non conoscevo e di proporre anche degli spostamenti o delle collaborazioni. Ad esempio, Tugnolo è stato un ragazzo che fa parte della velocità olimpica del team sprint su pista, ma è un atleta che viene dall'BMX. Poter creare questi switch, questi cambiamenti, e ce ne sono altri che stiamo attivando, è proprio perché ho potuto spalmare questi test, questa ricerca del talento in varie discipline. Ti sei accorto che questo, Prontivia, partiva fortissimo, le messe immagini in testa, con il primo uomo e gli fai fare la velocità olimpica. Ha accettato la sfida e l'abbiamo fatto. E altri lo stanno seguendo. Però io so che io facevo parte di questo gruppo, tra virgolette, un bel po' di anni fa. Si facevano dei test su ciclomulino a Montichiari per vedere anche se i ragazzini giovani come andavano. Mi ricordo che ho fatto un test a Milan da lievo, quindi un bel po' di anni fa, e gli avevo detto, ma quante gare vinci tu all'anno? No, tre o quattro, ma dovresti vincerne un bel po' di più perché si vedeva già. Quindi fate anche scoperta scouting in questo modo, giusto? Sì, continuiamo con quel progetto perché ha portato tanto, ha pagato tanto. Abbiamo i dati, come dici, di Milan, ma anche di Ganna, da quando è junior. E negli anni continuiamo a fare più test possibili, censire più possibili gli atleti che abbiamo nel territorio, non solo del mondo strada-pista, ma anche del fuoristrada, BMX, abbiamo allargato a tutte le discipline. e rimpolpando il database, mescolando questi dati, facendo anche un po' di ricerca e giocando con i numeri, vediamo che i ragazzi e le ragazze ci sono, perché sia nel mondo maschile che femminile, i talenti, i numeri ci sono. Dobbiamo solo dargli la serenità e creargli un percorso per poterli fare merda. E per fare questo è indispensabile collaborare poi con i club. Assolutamente. E come funziona questa collaborazione? Come viene esistita la collaborazione tra i club privati, le squadre, quindi da Liev, Imi, Ores, Andre, professionisti e la nazionale, che invece chiede che questi ragazzi vengono ad allenarsi con loro, ma i ragazzi sono di queste squadre. A volte è più facile lavorare con le squadre professionistiche che con quelle giovanili, perché non tutte le realtà, perché non si può sempre generalizzare, per carità, ma parlare di programmazione, ancora in Italia, a volte è molto difficile. Mentre con i team professionistici, quando ti siedi a tavolini inizio a stagione, condividi una programmazione e poi è quella e si va passo passo e le realtà professionistiche sanno cosa vuol dire periodi più di forma, piuttosto che periodi di scarico, periodi di un certo tipo di lavoro piuttosto che un altro. A volte quando parliamo con società giovanili invece è veramente difficile riuscire a incastrare, far capire la funzionalità di un programma a lungo termine con dei periodi che hanno una funzione e periodi che ne hanno un'altra. Sì, perché quello che vediamo in Italia, infatti per la prossima domanda è su come vi dice il mo' giovanile italiano nel momento che cambiamenti apporteresti. È un po' come quando correvamo io e te da ragazzini, essenzialmente è rimasto per tanti versi così se non esasperato ancora di più ma in una direzione magari sbagliata. E quello che vedo è che si tende a replicare uno schema di allenamento, un ciclo settimanale per sei mesi consecutivi con cariche bene o male sempre uguali con la corsa tutte le domeniche quindi senza la possibilità di mettere ad esempio tre giorni di carico consecutivi perché se ti corre la domenica come fai a farlo e quindi con grossa difficoltà a far crescere un ragazzo. Sì. Ti ritrovi un po' ancora così. Siamo rimasti una delle poche nazioni forse l'unica che lavora ancora e corre in posta tutto per la gara della domenica mentre dovremmo insegnare i nostri ragazzi a lavorare in funzione di obiettivi. non dico di non correre si può correre ma bisogna correre in funzione di obiettivi capire come si costruisce una prestazione e come si dà il 100% in un obiettivo importante perché se vogliamo emergere nel ciclismo internazionale nel ciclismo moderno dobbiamo insegnare i ragazzi fin da queste categorie a come si lavora in funzione di un obiettivo non a vincere più gare possibili durante l'anno ma a lavorare in funzione di uno. Quindi fare vari periodi agonistici ristretti magari correre due o tre mesi su strada magari poi concentrarsi male nel cross d'inverno cross country pista altre cose però momenti separati momenti in cui non ci sono gare in cui si fanno volumi di lavoro e si tende a crescere. Sì perché il nostro problema è questo corriamo sempre corriamo tanto e corriamo sempre per vincere e quindi non c'è mai un momento in cui ti fermi e costruisci una prestazione. Questo poi quando si passa di categoria si arriva al mondo professionistico dove invece hai chiesto che tu sappia costruire una prestazione o anche già ormai anche da andare al 23 e se non siamo capaci quella mentalità prima che proprio il lavoro specifico però la mentalità che manca è difficile acquisirla in poco. Sì perché a livello mentale è più facile avere la gara tutte le domeniche quindi un obiettivo sempre vicino e una preparazione sempre mirata a massimo sette giorni dopo. Esatto. Pensare di non correre per un mese fare il volume di lavoro in quel mese lì mentalmente devi prepararti a questa cosa. Sì. Ti faccio un esempio un po' di anni fa mi ricordo ai mondiali di Firenze quando il pool vinceva tra gli juniors e dopo l'arrivo parlavo con uno del suo team gli ho chiesto bravissimo questo ragazzo quante gare ha vinto quest'anno e mi ha risposto è la prima. Cioè per noi è impensabile che un ragazzo strutturi una programmazione in funzione del mondiale e vinca il mondiale cioè devi aver vinto venti gare per andare al mondiale perché non parlo di bene o male ma la nostra forma mentica la nostra società funziona così. Sì e vabbè questa cosa è forse la caratteristica più evidente tra l'altro di Wanderpool cioè che lui arriva una gara alla punta e generalmente la vince quest'anno è stato praticamente così quasi sempre e sì questa è la cosa che invece ne abbiamo tanti ragazzi che hanno tanta mare continuità su tutta la stagione quindi mi viene da dire buono per fare le gare poi alla fin fine e il rischio poi questo qua è quello che stiamo facendo purtroppo i nostri ragazzi con dei numeri da atletiche nulla togliere ai grandi fenomeni attuali ma noi abbiamo ragazzi che dalle categorie giovanili in su hanno dimostrato di poter essere al loro livello che però si perdono fin fa la fine di stai dicendo del gregario perché purtroppo o per mentalità o per formazione anche e preparazione fisica quella è quella la figura che si ritagliano bene speriamo che Cimo Giovanile possa cambiare un pochino almeno per il settore strada nel breve termine per dare la possibilità poi di perdere meno talenti perché sono convinto che i talenti nascano sempre cioè non è che non nascono più talenti in Italia semplicemente non si trova a amare la via giusta per permettere di arrivare dove possono ma sai guardando i numeri guardando ascoltando comunque le società il territorio guardando anche il lavoro che state facendo voi io sono assolutamente fiducioso perché i messaggi ci sono i numeri ci sono gli atleti ci sono bisogna solo dargli fiducia e permettergli di crescere passo passo se riusciamo a tenerli tranquilli dargli fiducia veramente a crescere io sono fiducioso che torniamo a quei livelli bene ti ringrazio Diego è sempre un piacere parlare con te spero di vederti ti auguro ovviamente di raggiungere i risultati migliori l'anno prossimo che è un anno ovviamente importante assolutamente grazie a voi dell'invito fa assolutamente piacere ci siamo bene noi continuiamo con lo show continuiamo con lo show è passato qualche giorno nel frattempo sono riuscito a prendermi il raffreddore fa niente venerdì è stato presentato il percorso del Giro Italia noi abbiamo fatto un video dove andiamo a vedere tappa per tappa quanto è cambiato soprattutto quanti metri di dislivello in meno ci sono e abbiamo chiesto ad alcuni esperti del settore cosa ne pensano sentiamo è un giro secondo me molto duro come sempre nella finale finale delle tre settimane non mi convincono i chilometraggi anche se c'è questo discorso della modernità chilometri più moderati solo quello poi mi sembra che sia bene certo mancherebbe un arrivo o comunque un passaggio sul muro del Pirata che siamo qua in Maremma potrebbe fare anche una bella sfida caro Brambo e caro Maranga proprio sul muro del Pirata ha detto bene Magro è un giro d'Italia che secondo me richiede anche prestanza atletica già da subito perché secondo la tappa c'è una rimessalita a Europa quindi la fare attenzione e l'Europa capiremo come al solito chi non ha inizionato al giro perché magari arriva un po' più scarico rispetto ad altri però è anche un giro che richiede come sempre negli ultimi quattro giorni veramente il massimo perché due volte la scala è un giro d'Italia esigente quindi sicuramente sarà spettacolo speriamo in una classifica chiusa e di vederlo è uscito il nuovo Swift Hub One One perché ha un singolo rapporto infatti questo è un ruolo interattivo molto particolare non si utilizza il cambio della propria bicicletta ma al suo interno ci sono 24 marce virtuali un pochino come le smart bike che possono cambiare intensità di pedalata semplicemente avvicinando allontanando il magnete rispetto al volano si può fare tramite questo comando molto semplice con un più e un meno si può attaccare con due elastici dove si vuole sulla bicicletta oppure anche con i Swift Play venduti separatamente questi praticamente sono dei gadget che permettono di utilizzare Swift alla massima potenza si può anche cambiare traiettoria si possono montare su un monobi drop e oltre al tasto qui davanti che era ben visibile per appunto spostarsi c'è anche questo piccolo tasto che serve appunto per cambiare il rapporto a destra indurisce e a sinistra invece alleggerisce il vantaggio di avere un unico opinione è notevole ad esempio si può condividere il rullo con i nostri familiari i nostri amici che hanno sistemi di rapportature differenti infatti con questo sistema si può usare sia dall'8 velocità al 12 velocità indipendentemente e si può montare su quasi praticamente qualsiasi bicicletta da una bici da triathlon una bici a scatto fisso da città una mountain bike insomma quello che si vuole mi starete domandando ma se cambio il rapporto accidentalmente perché sono sovrappensiero la catena scende faccia un disastro no perché in realtà il pignone è inserito tra due guide che tengono la catena all'interno anche se dovessimo cambiare il rapporto accidentalmente la cosa interessante è che nei primi tre secondi Swift compara le misure di velocità del volano velocità di rotazione dei nostri pedali e potenza erogata infatti qui c'è anche un misuratore di potenza e unendo questi tre parametri stima la dimensione della nostra corona anteriore in questo modo potremo poi eseguire i lavori specifici su Swift o pedalare tranquillamente per Watopia e altri mondi virtuali o anche gareggiare con dei rapporti che sono molto realistici rispetto a quello che avremmo su strada con quel tipo di corona e quel tipo di intensità questo rullo viene venduto a 599 euro e acquistandolo si ha anche un anno di abbonamento Swift incluso nel prezzo Vittoria Bussi fa registrare il nuovo record dell'ora femminile della prima donna da battere il muro dei 50 km percorsi in un'ora aveva già conquistato questo primato poi la Van Dijk è riuscita a strappaglielo e ora è riuscita a riconquistare questo primato dando quasi un chilometro all'olandese noi italiani sicuramente abbiamo un bel rapporto con questo evento perché Moser è stato il primo uomo a superare i 50 km Vittoria Bussi la prima donna e attualmente anche Filippo Ganna è detentore del record ed è la persona che ha unificato i due record precedenti cioè il record dell'ora con regole UCI e il record dell'ora come miglior prestazione umana praticamente in un unico record da 56 km e 792 metri sempre rimanendo su gente che va veloce con le mani e sulle prolunghe Joshua Tarling ha vinto l'acronometro delle nazioni battendo Remco e venne pool di 11 secondi da quando gli hanno cambiato il manubrio dandogli uno stampato in 3D come tutti i campioni diciamo è riuscito a fare un salto di qualità impressionante vedremo se l'anno prossimo riuscirà a confermarsi su questi livelli tra l'altro è una prova juniores a vincere stato l'italiano Davide Donati della ciclistica trevigliese si è concluso anche il Giro di Turchia vinto da Alexei Luzenko tante tappe nella corsa anatolica si sta correndo anche il Tour of Guanchi in Cina l'ultima corsa World Tour della stagione finora tante volate la prima vitappa per Viviani che torna al successo nel World Tour dopo 4 anni poi anche Jonathan Milan mentre un altro Milan ad avere la maglia di classifica generale è Milan Wader guarda caso il team Jumbo Visma stanno vicino tutte le corse a tappe quest'anno vedremo se riuscirà a vincere anche il Tour of Guanchi che finisce per me domani per voi oggi la penultima tappa intanto è stata vinta da Molano quella del lunedì questa settimana su GCN Plus si potrà vedere la Super League Triathlon a Neom il 21 ottobre l'UCI Truck Champions League a Mallorca il 21 ottobre ricominciano gli appuntamenti su pista ovviamente anche il Super Cross con il Super Prestige a Over Easy sia maschile che femminile il 22 ottobre esce anche un documentario carino la Com Hunter 21 dopo aver provato a battere il Com sull'Alpe Duets tra l'altro anche con il nostro Luca Vergallito che tra l'altro è passato nella formazione World Tour dell'Alpe sempre l'anno prossimo in questo documentario vedremo se Andrew Feder e Max Tedman riusciranno a portare via il Com del Mont Ventoux che attualmente è sulle spalle di Richard Carapaz con poco più di un'ora di tempo impiegato per correre il Monte Calvo mentre su GCN Italia questa settimana vedremo giovedì le cose più sopravvalutate visto che era uscito due settimane fa il video sulle cose più sottovalutate secondo me sono sempre miei opinioni personali quindi non arrabbiatevi se non siete d'accordo poi sabato vedremo anche cosa cambiereste la tua bici abbiamo chiesto degli amatori che upgrade vorrebbero fare alle loro biciclette mentre domenico uscirà un video in cui spiegheremo o meglio illustreremo tre allenamenti che potrebbero essere veramente interessanti per mantenere una buona condizione durante l'inverno allenandosi indoor per essere pronti poi per la primavera anche Andrea Gandolf ha preso la palla al balzo visto che si parla di modifiche della bicicletta questo è sicuramente un periodo dell'anno in cui conviene mettere mano alla bici sia per fare una manutenzione ordinaria sia per cambiare qualcosa e lui ci manda questa vignetta in quale ordine dovresti apportare miglioramente la tua bici per primo il portafoglio questo è il caro Maranga che apre il suo borsello esce una mosca e un euro all'inizio pensavo fosse il portagioie perché sapete che si è appena sposato il Maranga che è il motivo per cui non è qui invece no poi ho guardato bene tutto per l'anello ma evidentemente devi guadagnare un po' di più il buon Maranga passiamo ai commenti Damiano Vannucchi l'unica gara a triathlon che ho fatto è primo, secondo e dolce l'ho fatto anch'io penso a tanti altri molto interessante la consiglio Francesco Rapisarda perché essere scarso in uno sport quando può essere scarso in tre questo è quello che mi hanno detto quando dal podismo sono passato al triathlon che incoraggiante Cristiano Bora mi ho fatto il percorso inverso ho iniziato a fare triathlon come sfida personale e poi ad oggi per motivi di tempo mi dedico interamente alla bici che delle tre discipline è quella più appagante anche per me Gianpietro Cairati sicurezza scusate l'argomento off topic è un po' che volevo chiedervi perché le radioline vengono messe ancora sulla schiena con il pericolo di provocare danni in caso di caduta con le innovazioni tecnologiche auricolari wifi bluetooth possibile se non si riesca a trovare il modo di posizionarle sulle bici complimenti per il canale ma probabilmente un modo c'è anche potrebbe essere anche una cosa interessante spostarle dalla schiena ultimamente tendono a non mettere più centrate sulla crona vertebrale ma laterali nella zona delle costole però se si cade è più facile rompersi sicuramente una costola con una radio che ti spinge piuttosto che no più che sulla bici secondo me se riuscissero a ridurre un po' il peso avrebbe senso integrarle nel casco cioè creare dei caschi che hanno già uno scompartimento per poter mettere la radio in modo che poi sia anche corto il filo per collegarsi direttamente all'orecchio il problema delle bici è che se si cambia bici in corsa poi si rimane senza radio quindi non so se sarebbero così contenti i corridori di ritori sportivi di questa scelta Carlo Cibin comunque il mondo si è capovolto Alan si lamenta e Giorgio no comunque bellissimo video soprattutto per chi come me sta per acquistare una gravel e vuole saperne di più grandi ragazzi questo è il video di domenica gravel vs road poi non è vero che Alan non si lamenta Alan si lamenta sempre generalmente e io tra l'altro mi lamento anche meno di Alan secondo me il problema è che io le cose non le faccio proprio poi se le faccio non le faccio andare bene invece Maranga le fa tutte ma si lamenta sempre quindi attenzione ci sono delle differenze Freddymar86 bella qua si riferisce alla Canyon Grail a parte il passaggio ruoto è maggiorato cosa cambia tra questo telaio e quello della Ultimate a livello di geometrie? cambia tanto voglio rispondere un attimino con più tempo a questa domanda se prendiamo entrambe le bicilette in taglia L entrambe hanno l'altezza del piantone alto 54 cm che è quello che fa un po' la taglia anche per con i bici anche se qualcuno la prende sul tubo orizzontale in questo caso hanno una lettera quindi L 54 cm di piantone bene la Grail però ha uno stack di 613 e un reach di 427 mm la ultima invece 580 su 401 vuol dire che la Grail è 33 cm più alto il manubrio e 26 cm più avanti o meglio non il manubrio ma la parte alta centrale del canotto sterzo questo vuol dire che il telaio più lungo e più alto davanti inoltre ha un attacco manubrio però completamente diverso la Ultimate in taglia L esce con un 110 mentre la Grail con il 70 quindi 4 cm più corto che va a compensare i 26 cm più lungo quindi essenzialmente la Grail sarà 2 cm più corta e 3 cm e mezzo più alta una posizione ovviamente più comoda inoltre cambiano anche gli angoli l'angolo di sterzo sulla Grail è 71,5 mentre sulla Ultimate è 73,5 questi quasi due gradi di differenza permettono di assorbire meglio le buche e cambiare ovviamente l'impronta terra della bicicletta tutte queste cose permettono di avere una bicicletta più reattiva quindi attacco a un numero più corto e meno stabile rispetto alla Ultimate che c'è un attacco più lungo e può fare curve veloci con un po' più di stabilità rispetto a una bici con un attacco più corto quindi cambia in realtà tante cose i commenti sono finiti tra l'altro continuate a scriverli leggeremo nel prossimo show Caption Challenge non ho più voce sono anche un po' raffreddato tra l'intervista con Bragato fatta qualche giorno fa e oggi sono ammalato la foto era quella di Thibaut Pinot con una capretta peluche in mano a vincere alle red Thibaut con il suo premio di consolazione per essere stato il goat del tifo a Lombardia goat e grit of all time in inglese ma vuol dire anche capra sempre in inglese e capra perché me lo avete scritto in tanti l'allevamento di animali tra cui tante capre quindi non pensavo che gli regalassero una capra per questo motivo evidentemente sanno anche gli organizzatori del Lombardia di questa cosa foto nuova qui potete sbizzarrirvi c'è Cocard che sta salendo al foglio firma o al parco sì penso il parco del palco del foglio firma non riesco più neanche a parlare e c'è questo curioso personaggio che lo guarda un po' di traverso anche Cocard lo guarda un po' intimorito scrivete quello che volete con la stack caption challenge e vincerete una borraccia come tutte le settimane via con la sfida siamo arrivati alla conclusione anche di questo 250esimo GCN Italia Show dal prossimo tornare al maranga quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti ciao